... ... ... ... ... ... la macchina la seconda volta lei deve stare seduta perché il mister in più è che gli altri stanno seduti grazie se non ci sei chiamo un collega si esprime in mezzo a quattro me li devi inculare Marco che sei lì a forza Marco la macchina 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 Faccioli un bacello! perjo, perjo, perjo per me E' cazzo figliara! E' pochia buttano! Secondo palo giurla! Con bellona giurla! Francesco, con bellona giurla! A�-ria-ria! A�-ria-ria-ria! A�-ria-ria-ria-ria-ria-ria!